Oggi parleremo di un altro servizio che devo dire è molto molto sicuro, il dappero l'interfaccia è bellissima, sarà per il colore dark che a me piace molto per quanto riguarda il riposare la vista, quindi lo trovo veramente bello, ma ovviamente un servizio email non si può far piacere di più rispetto all'altro perché c'è il dark all'interno della schermata per riposare, io ho un servizio che non è bene e devo dire che io l'ho testato un paio di mesi ed è davvero un buon servizio email, effettivamente funziona bene, non ha avuto mai ecche di non arrivare qualche email, di sbagliare e mandare un email giusto nello spam o viceversa, effettivamente il servizio funziona bene e da quello comunque che dico loro è un servizio abbastanza sicuro, oggi si parlerà di proton mail, quindi senza perdere altro tempo, ovviamente ho fatto un video precedentemente creato con i migliori servizi email ai tempi, ho testato da un paio di mesi anche questo, quindi ovviamente a quel video si aggiungerà anche questo servizio email che trovo davvero fatto bene, anche l'applicazione, gli smartphone, insomma nei nostri dispositivi mobili funziona davvero in maniera eccessa, non perdiamo tempo, cambiamo inquadratura e vediamo come aprire un servizio email di proton, come al solito dobbiamo scrivere in una pagina internet ovviamente proton mail e il servizio è proprio questo di qua, quindi cliccheremo all'interno e direttamente si aprirà il servizio che offrirà proton mail, ovviamente vi dico che è un email completamente gratuita, questa basica, però che se non avete problemi di spazio, grosso problema insomma di quantità di giga che vi servono per farvi arrivare le vostre email, che effettivamente in versione free, e comunque ringraziamo sempre il problema di permettergli di fare tutti questi email in maniera free, diciamo è piccolino lo spazio, solo l'unico pecca, l'unico punto dolente di proton mail è questo, però per chi volesse più spazio, ovviamente può pagare qualche cosetta in più e andarsi ad attivare un email un pochettino più prestante. In questo caso quindi cosa dice qua? In maniera ovviamente grossa scritta, proprio a caratteri grandi, un email sicura a tutela della price, quindi proton mail, che già è conosciuta molto per la VPN, poi faremo un video anche per quanto riguarda la VPN di proton, che sempre alla stessa maniera fornisce una VPN in maniera free e altro ovviamente in maniera a pagamento, quindi è una delle poche che offre VPN free, perché è una delle poche perché effettivamente proton non ha una scadenza o non ha un limite per quanto riguarda i giga di connessione sotto VPN, però l'argomento non sarà affrontato ora, poi l'affronteremo. Questo per farvi capire che proton comunque ci tiene la nostra privacy proprio perché viene anche da una creazione di VPN, quindi in questo caso tutela la privacy delle tue conversazioni con proton mail, un servizio svizzero, quindi la svizzera sappiamo soprattutto che la svizzera in fase insomma di dati è molto severa, per questo ritorniamo al discorso delle VPN che è molto severa come privacy, di posta elettronica cifrata, quindi in questo caso noi possiamo andare anche a vedere i vari prezzi, quindi se clicchiamo sopra possiamo vedere proton quanto costa, potete vedere che il proton free avete uno spazio di archiviazione a zero, quindi per sempre, lo possiamo ottenere in maniera grazie, un giga di archiviazione. C'è effettivamente un giga che veramente basta, però chi lavora effettivamente molto con le email ovviamente può sfruttare che ovviamente ora sono in sconto, quindi mi raccomando andate a effettuare insomma casomai ora l'upgrade della vostra email a proton mail per il servizio perché è scontato, per esempio il mail plus è quello più basico, addirittura offre 15 giga di archiviazione, ma poi offre anche l'email per l'utente, 10 indirizzi email extra per te, assistenza clienti prioritaria eccetera eccetera eccetera, quindi questa per esempio è la mail plus, per chi vuole molto ma molto più ovviamente c'è anche la proton mail LinkedIn e la proton, quindi noi siccome vogliamo dare priorità alla proton mail gratuita possiamo cliccare su proton mail quindi otteni proton mail gratis, cliccheremo qui e direttamente possiamo andare a cliccare, non vi fate confondere dall'acquista mi raccomando, dobbiamo continuare con continua con proton free, cliccheremo con proton free e direttamente si aprirà ovviamente l'icona per andare a creare il nostro account, semplicissimo, dobbiamo poi andare a inserire la nostra email che vogliamo creare, mi raccomando se è già esistente, magari lui ce ne può suggerire qualcuna e possiamo cliccare su proton mail, quindi proton.me, possiamo anche scegliere su proton mail.com, quindi quella che vogliamo noi, inserite la vostra password e confermate la password, se è tutto corretto, se avete rispettato un email che non esiste, una password che effettivamente corrisponde alla sua policy, ovviamente dovete cliccare poi su crea account, noi invece ci rivedremo direttamente con l'account creato, una volta che voi avete creato l'email vi ritroverete direttamente sulla schermata dove dovete accedere, ovviamente dovete comunque una volta creata l'email confermare l'email, quindi per questo qui c'è perché, essendo che ho il proton è un servizio e dal pronome di tutti gli altri email, quasi tutti i servizi email lo fanno, vi chiedono di confermare la vostra email proprio per vedere che non siete dei robot, quindi in questo caso una volta che avete creato la vostra email potete accedere utilizzato alla vostra email e alla vostra password, io ovviamente ora li inserirò per accedere. Perfetto, una volta che avete fatto l'accesso ovviamente lui cercherà la vostra email, quindi attendiamo, perfetto, e questo già è il pannello della vostra email praticamente, quindi in questo caso come vi dicevo io, io la trovo veramente bella perché ci sono poche email che sono col dark monitor, quindi per esempio col dark screen, questo serve per far riposare veramente io e mio magicamente con lo sfondo nero riesco a trovare immediatamente più cose. Altrimenti purtroppo sono sempre a sfondo il bianco e non permettono proprio questo switch al dark screen per riposare gli occhi. Ovviamente anche abbiamo il dark web monitoring, quindi già abbiamo capito parlando di antivirus che cos'è, ovviamente noi mettiamo alcuni dati all'interno del nostro password, le nostre carte, come codici, numeri di patente per sapere se i nostri dati sono andati a finire nel dark web, quindi in maniera pericolosa. Per esempio qua io ho alcune email che mi sono arrivati dalla parte di Proton, questo è anche un email test, che io posso andare o a leggere o a eliminare, quindi cliccandole e metterle nel cestino, quindi veramente, veramente semplice. Non ci dimentichiamo che una volta che sono messe nel cestino dobbiamo sempre andare a svuotare questo famoso cestino, perché se no l'email si riempie, quindi in questo caso risvuoteremo il cestino e effettivamente abbiamo noi sempre qua, diciamo, un totto di spazio disponibile. Come potete vedere io come spazio ho i 500 mega, perché quando è stata creata questa email effettivamente era 500 mega, ora invece effettivamente troverete un giga che è il doppio, già è quanto dire, è veramente, veramente spettacolare. Quindi proprio lo vedete è in maniera intuitiva, spettacolare, bellissima. Per scrivere un email basta scrivere in alto, grosso, nuovo messaggio, poi con questo colore rosso vi fa capire che si deve scrivere qualche email. Qua possiamo andare a inserire a chi mandare l'oggetto, il testo che vogliamo scrivere, possiamo andare a mettere anche gli allegati con la grappettina qua sotto. Quindi effettivamente in maniera intuitiva ci sono anche email dove è pure difficile andare a trovare il tasto scrivi, perché prima si deve passare dalla posta in arrivo e poi spunterà una maticina dove addirittura nemmeno c'è scritto, scrivi noi mail. Quindi direttamente qua effettivamente molto molto buona. Possiamo anche scrivere col tasto veloce N, lui scriverà la nuova email, quindi qua possiamo andare a vedere la spam, tutta la posta, le cartelle, tutto quello che vogliamo. Qua vi farò vedere dove siamo, in che punto siamo inseriti ora, è il cestino che è col verdino, ma lo fa vedere anche qua. Se io vado a posta in arrivo ovviamente diventerà verdino dove c'è la posta in arrivo che è vuoto e grosso vuotata, ma anche sopra ce n'è a posta. Possiamo cercare e filtrare i messaggi in tutta l'email, soltanto nel box, soltanto il sento, quindi quelli mandati, o altro. Quindi possiamo cercare, se abbiamo veramente l'email stracol, ma possiamo per velocizzare cercare un email, anche cercando il nome dell'azienda che ha mandato a noi l'email. Quindi qua possiamo anche filtrare tutta la posta, letta, non letta, gli allegati, quale allegati e quale no. Qui possiamo andare a impostare tutto quello che è serio, possiamo anche andare a impostare il colore, quello che vi facevo notare io, quindi possiamo farlo anche diventare bianco. Già a me così gli occhi se ne vanno in frantumo, quindi direttamente posso anche andare a mettere questo colore più nero, o questo di qua col rossiccio che a me piace meglio. Possiamo anche andare a far diventare più scuro solo la parte sinistra e lasciare bianca quella destra, per esempio scegliendo un colore come a me. Abbiamo detto che piace bianca, soprattutto questo rossiccio vi fa vedere direttamente le cose più importanti da fare. Una volta che ho effettuato tutte le impostazioni qua nell'ingranaggio, vi ricorda sempre che potete andare comunque a effettuare l'upgrade, quindi passare anche da un free in qualsiasi momento ad un piano presente di quello che vi ho fatto vedere poc'anzi a pagamento che tuttora è scontato. Quindi qui possiamo andare a caricare i nostri contatti per provarli veloci se dovevo mandare qualche mail. Qua abbiamo anche il calendario che è proprio davvero utile e qua abbiamo il centro di sicurezza. Quindi questo è il servizio email che offre ProtonMail e devo dire che è davvero fantastico. Un email che sicuramente io magari in futuro, anziché in fase di test, comincerò ad utilizzare. Quindi per tutti quelli che cercano, oltre a quei servizi che io ho detto che erano veramente spettacolari, si aggiungerà questo ulteriore servizio email che provano l'avanguardia veramente come privacy e come proprio funzionalità. Nel desktop se apriamo la pagina internet funziona davvero bene, però vi ricordo che esiste proprio il servizio sotto applicazione iPhone, Android o quello che sia che funziona altrettanto bene. Quindi provatelo se vi va di provare, se soprattutto cercate una seconda email o addirittura chi ancora non ha un servizio email potete affidarvi direttamente a ProtonMail. Ciao a tutti e al prossimo video.